Oggi stiamo celebrando questa giornata del maialino casertano, ovvero come viene detto già dall'antichità e in gergo il porco che è sciuccaglia. I sciuccaglia sono questi peduncoli che c'è qua, oppure viene detto anche il maialino con gli orecchini, ma in realtà sono questi che poi vi faremo vedere dal guanciale, ci sono questi peduncoli, questi sporgenti e quindi sciuccaglia, qua dicevano nella provincia di Caserta. Maialino casertano due parole voglio spendere sulla storia, sulla storia mi è piaciuto negli anni, abbiamo sempre tenuto da anni maialino casertano, perché maialino casertano è stato abbandonato nella provincia di Caserta, la paternità e l'originalità ce li vengono già dagli iscritti dell'antica Roma, tra l'altro sul sito chi ha guardato, Giampietta ha fatto una ricerca rigorosa, bellissima, tra delle foto dell'antica Roma che ritraggono questo, con i vari dipinti, maialino casertano. Maialino casertano che per secoli è stata una fortuna, diciamo, perché addirittura ci sono degli studi in atto, alcune parti del grasso è insaturo, un po' come il salmone, quindi è in più sicuramente, e questo ce l'ho dimostrato la Spagna, qua c'è una nota dolente del nostro maialino casertano, ma negli anni 50 e 60 i contadini è andato in disuso, l'hanno lasciato, l'hanno abbandonato, e il sacerdote ce lo può confermare perché sono arrivati questi maiali extralaggi, due quintali, la gente che aveva bisogno però, i contadini, perché per loro il lardo è anche da capire, non è una critica. Qua ci sono delle triabite, qua ci sono perché Franco è un esperto, però dice voi un anno lo dovete far mangiare lo stesso, ricresciate uno di quello, due quintali. Perché Franco ha lavorato proprio in questi 40 anni con i contadini proprio che avevano sostituito questo grande maiale, e infatti la prima battuta del Vincuocco che abbiamo, ci preoccupavamo per i tempi, ha detto ma voi gli tacciano un uillat, l'ha visto? Franco ha fatto peso di 80 kg, sembra un maiale un uillatino, 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 un uillatino. Chiaramente, chiaramente il maialino casertano, come tutti gli animali, si hanno uno stato psicofisico diciamo noi, sia a livello di libertà, sia a livello di alimentazione buona, i nostri hanno mangiato un po' di tutto con gli aiuti di tutti gli amici della comunità che sta a Montefelio, quindi ghiande, quindi fichi, quindi castagne, verdure, di tutto e di più. E quindi abbiamo uno spazio più largo, anche lì abbiamo delle critiche, noi cerchiamo anche di farlo scavare nella terra, ci sono i sali minerali, dovrebbe stare proprio allo stato brado, fatti in Spagna e qui alla Norte Dolente fanno questa famosa pata negra, che anche l'allenatore cappello là, quella che ora sta in Inghilterra quando ha allenato in Real Madrid, questo prosciutto a 200 euro al chilo, più famoso del mondo, però è stato scopo, cioè nella ricerca storica sui Borboni, che come ci hanno dato uno scander, uno dominatore a sud Italia, hanno fatto anche delle cose eccellenti, però hanno anche preso. L'hanno preso in Maglionica Sertana, l'hanno portato al nord di Madrid, e adesso, ho letto delle interviste su Repubblica di questi allevatori allo stato brado, hanno questi Maglionica Sertani, che è vero che non fanno due quintali, ma fanno un quintale, come ho detto i napoletani, e poi ci rilecchino di edizione, perché comunque sia il prosciutto e tutti i salumi per questo grasso particolare, perché anche la particolarità del grasso, proprio diciamo anatomicamente, è maggiore rispetto alla carne. Ce l'ha nelle fibre. Ce l'ha anche nelle fibre, quello là, quello insatro. Comunque dà un sapore, poi assaggerete le varie cose, ma altre cose, proprio da assaggiare in Maglionica Sertana, sarà tra cinque mesi, con le pancette capogoli, o la salsiccia, come la stiamo facendo. Questo qui è proprio indicato per la trasformazione dei salumi. Quindi la maggior parte andrà per fare salsicce, capicoli. Che stanno facendo. Tra l'altro, a questo nei secoli, perché comunque ci sta sempre tante inventività, io sono del sud, amo il nostro sud, con i suoi tanti problemi. Però qua fanno una lavorazione, per esempio in Basilicata mettono sotto olio la salsiccia, qua la fanno sottosugna. Sottosugna e questa salsiccia, pure sottovuoto si può mettere. C'è nel senso che noi abbiamo fatto sottosugna qualche volta che c'è stato un po' di più, invece di un anno, due anni, è uscito questa salsiccia con la ruggiata e poesia. Sfidiamo a chiunque delle mille romagne, colatelli, capogli o i salami milanesi. Abbiamo un signor salume che viene dal signor maialino Casertà. Due mila anni di storia, negli ultimi quarant'anni era proprio in via d'estinzione. Alla fine degli anni novanta ho seguito un po' il percorso, ho conosciuto questa bella persona, un professore di scuola alberghier di Teano, fa la ricerca storica, riprende e rilancia con un'associazione proprio per la tutela e ripristino di questo nostro porco che è bellissimo. E quindi alcuni di noi lo stiamo riprendendo. Questo un po' lo facciamo col maialino e anche con altre cose, però rimanendo al maialino, oggi voi, dopo i tre giorni, oggi si farà anche insieme un laboratorio di ciccole, facciamo, scuagliamolo per la sguina insieme dopo il mangiato. La salsiccia la stanno facendo a testa. Dopo mangiato ci metteremo a fuoco là, ci fanno una sigaretta e le sciccole. E' così la cosa del maialino Casertà. Noi pensiamo e riteniamo che così è il nostro stile di vita e le persone che stanno a Montefelio e l'abbiamo ascoltato venerdì pure a Castello dell'Ovo con Carlo Petrini che è venuto e rilancia sempre a tutte le comunità del mondo ritornare ai sapere antichi. Noi siamo in una terra fortunata, l'antica campagna, Felix, i sapere antichi sono tanti, siamo innamorati di questa terra, non devono essere soltanto famosi per tutte le negatività che ci sono. I primi asparagi? I primi asparagi stanno uscendo. Io stamattina mi sono svegliato e mangiando il primo asparagio, escono i primi di marzo. Infatti ci hanno fatto le domande, perché le margherite stanno in fiore? C'è una domanda molto semplice, la tramontana ci supera. Vedete? Arrivano solo un po' di foglie, ma il vento di terra non c'è. Abbiamo in estate lo scirocco. Comunque vi auguro buon proseguimento di giornata. Noi siamo contenti che siate qua, anche noi siamo contenti di stare qua. Grazie, grazie.